Un'altra domanda che mi viene un po' così spontanea, ad esempio il numero di posti letto dalla vecchia struttura alla nuova struttura è aumentata, è uguale? Il numero di posti letto rispetto alla vecchia struttura è aumentata, infatti la vecchia struttura poteva ospitare circa 500 posti letto effettivi, questa struttura è in grado di offrirne 580. Questo è un ospedale che è stato pensato per gli acuti, per cui il numero di giornate medie di degenza è destinato ad avere un minimo assoluto.